forse che la nostra ricerca ha come fine la tranquillità la pace la felicità no noi cerchiamo solo la verità anche la più terribile la più repellente qui si dividono le vie degli uomini se vuoi la pace dell'anima e la felicità credi se vuoi perseguire la verità cerca questo è l'11 giugno 1865 e queste parole risuonano fino a noi e ci accusano noi abbiamo smesso di cercare la verità nella filosofia e l'abbiamo sostituita con dei piccoli vigliacchi credo e allora chiediamoci cosa può fare la filosofia nel 2024 a cosa serve quest'oggi la filosofia la stessa cosa a cui serviva mille anni fa cercare la verità ne parliamo come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte uno dei ricongiti alla volta ogni volta in cui qualcuno chiede a cosa serve oggi la filosofia nel terzo millennio con l'intelligenza artificiale a cosa serve mai la filosofia arriva lo stuolo di frasi fatte c'è chi dice non serve a nulla perché non ne serva di nessuno frase che non vuol dire assolutamente nulla c'è chi dice che la filosofia è il fondamento di ogni altro sapere quindi bisogna fare filosofia e anche questo insomma un po' una frase fatta c'è chi dice che la filosofia serve perché è l'alleata della scienza del diritto ed è il sapere che affianca insomma sono tutte cose che in parte sono corrette condivisibili in parte sono sbagliate fuori contesto ma soprattutto sono molto molto paraculo sono delle frasi paraculo paraculo che poi non significano veramente granché sono risposte e questa è la cosa su cui vorrei puntare l'attenzione quest'oggi che denotano una prudenza la prudenza che ha snaturato il ruolo stesso della filosofia la relegata a discorso secondario e superfluo come se dovessimo sempre mettere le mani avanti si faccio filosofia ma poi insomma fatemi del male o anche amici filosofi la cosa veramente preoccupante è che sono i filosofi a dare quelle risposte non i suoi detrattori i quali di solito dicono che con la filosofia non si conclude nulla e anche lì c'hanno un po' ragione un po' torto e io stesso in passato sono caduto in quella prudenza perché avevo quell'atteggiamento di dire sì faccio filosofia ma insomma facciamo filosofia ma giuro non disturbo nessuno non sporca la filosofia e poi se sporca puliamo e non vi accorgerete nemmeno di noi siamo dei bravi coinquilini tutta questa prudenza che in realtà nasconde secondo me un po' di vigliaccheria intellettuale e allora adesso basta signore e signori basta la filosofia deve tornare al suo compito che anche la sua sfrenata ambizione cercare la verità e lo so che è fastidioso lo so che è difficile lo so che è forse anche impossibile quello che facciamo da sempre torniamo a farlo e come sapete qui su daily cogito cerchiamo di farlo in modo adeguato con i video quotidiani le live e contenuti che cercano sempre di essere originali e fruibili lo facciamo però anche con la newsletter la cogito letter vi invito quindi a iscrivervi alla cogito letter perché ogni giorno alle 12 arriva questa letterina nella vostra casella mail con delle belle citazioni da grandi opere del passato di cercatori di verità con dei commenti originali che non trovate in altri luoghi sul web da me scritti riflessioni utili che ogni giorno scatenano orde di risposte entusiastiche curiose insomma è molto bella la cogito letter è gratuita trovate il link in descrizione non vi pentirete dell'iscrizione quindi dai su provateci e poi mi direte cosa ne pensate accanto a questo la ricerca della verità anche i giusti partner e per cercare la verità bisogna essere onesti trasparenti e sul web l'onestà e la trasparenza si raggiungono anche con lo sponsor di oggi che NordVPN ne saprete qualcosa di più alla fine di questo video ma adesso torniamo veramente alla ricerca della verità com'è che nel 2024 sembra che nessuno abbia più bisogno della verità ma attenzione con verità non intendo chi ha mangiato la nutella o chi ha avuto il coraggio di retweetare chef rubio non è quella la verità lì parliamo di una verità fattuale la verità dei fatti che in realtà ha più a che fare con la certezza intendo la verità con la v maiuscola quella di cui parlavano agostino eraclito platone cioè la verità inerente quelle domande esistenziali che spesso abbiamo paura di imporre ma chi è che sono io chi è che sei tu perché mi trovo qui perché sento questa sensazione di essere cosciente ma al tempo stesso non riesco a spiegarmela non riesco a guardarla che cosa è la coscienza queste domande dove stiamo andando ok queste sono le domande che hanno a che fare con la verità quando uno pone queste domande nella maggior parte dei casi si risponde con il cinismo nessuno potrà dirtelo nessuno potrà risponderti nessuno lo sa quindi non porre domande ingenue dai su avanti non farle domande dei bambini perché 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 non sono domande questo cinismo imperante alcuni altri fanno i pragmatici la verità di cui parli non è falsificabile non è empirica quindi la domanda non ha senso è una domanda mal posta i pragmatici in filosofia hanno dominato per mezzo secolo richard rorty di ui e tanti altri i quali dicevano dobbiamo smettere di porci domande sulla verità perché è una domanda mal posta e tanti filosofi hanno smesso di porsi domande sulla verità altri adottano il sarcasmo verità ho già abbastanza con le tasse te può immaginarte se faccio anche domande sulle verità e tutte cose del genere sono tutti atteggiamenti che cercano di allontanare quella domanda e qui c'è un problema signore e signori la filosofia io credo per timore di non essere al passo con i tempi sia adattata a questo ruolo da infantile comprimaria e ha smesso di nutrire l'ambizione della verità ha smesso di ricercarla ha smesso di domandarsi queste cose e quando se le domanda lo fa in modo distratto sì sto cercando la verità ma è solo perché sto cercando anche le chiavi che mi sono cadute mentre cerco le chiavi cerco anche la verità io credo sia in parte l'effetto inevitabile della accademizzazione della filosofia se lo stipendio di qualcuno che ricerca non più la verità dipende dal potere pubblico meglio seguire lo spirito del tempo e camminare con quella prudenza non possiamo essere troppo ambiziosi perché se lo spaventiamo la gente le verità sono sempre come diceva nice respingenti intollerabili e quindi cerchiamo di essere prudenti io credo che un po ci sia questo problema del motivo per cui secondo me oggi tanta filosofia di valore si produce al di fuori dell'accademia ma dove sono finite quindi le domande della filosofia dov'è che troviamo la filosofia dov'è lo spirito di eraclito eraclito che in tempi antichi diceva la trama nascosta è più forte della trama manifesta con questo cercando di dire che la filosofia deve scavare sotto la superficie delle cose per individuare ciò che sta al di sotto ciò che non è manifesto la trama nascosta è più forte è più vera la verità sta oltre le apparenze oltre le esperienze che tutti fanno oltre la chiacchiera eraclito diceva che la vita e la verità sono enigmatiche e quindi ci serve uno sguardo quello del filosofo che vada al di là di quella trama manifesta a cui tutti invece continuiamo ad approcciarci a cui spesso finiamo per convincerci che sia l'unica parte del mondo che possiamo conoscere dove lo spirito di platone platone il padre della filosofia che con tutte le critiche tutti i difetti però va ben chiara un'idea il filosofo deve avere il ruolo di guida guida nella ricerca della verità la quale deve essere il punto centrale di una civiltà il filosofo non può essere comprimario non può essere un servitore non può essere un vassallo deve essere il ricercatore della verità e in questo senso non è il filosofo deve essere il governante ma il governante che deve avere in sé lo spirito del filosofo dov'è laddove i filosofi sono ormai derubricati a figure secondarie un po strane da evitare con cui non bersi una birra al pub e dov'è lo spirito di kant kant che scrisse quella grandissima pagina sapere aude impara a usare la tua propria testa che vuol dire non conformarti allo spirito del tempo proprio perché il filosofo è colui che va oltre lo spirito del tempo le apparenze le omologazioni le convenzioni sapere aude usa la tua testa e in questo cerca la tua verità la verità anzi e lo spirito di nice che abbiamo citato all'inizio in quella lettera così straordinaria e che ci dice eh no certo che la verità è inaccettabile è intollerabile è impopolare ed è per questo che va perseguita e non ditemi che l'uomo non ha più bisogno non è più in cerca della verità c'è talmente tanta fame di verità quelle verità le verità esistenziali quelle nascoste quelle enigmatiche quelle che non possiamo provare con i fatti che le religioni in questa epoca stanno trionfando di nuovo ovunque le religioni le sette le facili formule poi che approfittano della mancanza di domande ambiziose dove infatti non arrivano le religioni le sette lo spiritualismo spicciolo arrivano le terre desolate il nichilismo arriva la disillusione il cinismo fatta di dipendenze di disumanità di amoralità che poi in realtà ci disperde tanto quanto le persone che si aggrappano a certezze assolute io ogni volta che vado in una scuola mi è capitato svariate volte negli ultimi mesi e anche la scorsa settimana con con una bellissima esperienza a verona ogni volta che vado in una scuola a parlare di queste cose i ragazzi si illuminano perché nessuno parla più loro di ricerca della verità non è neanche una domanda fastidiosa è una domanda che non si fa più non vengono neanche poste di fronte alla possibilità che esistano dei discorsi utili per porre quelle domande eppure chiunque abbia avuto 13 14 15 anni ma anche 25 30 è un cervello funzionante quelle domande se le hai poste che cos'è la morte in relazione alla vita come faccio a trovare l'origine di quello che sono come conosco me stesso il mio animo come è fatto da dove arriva qual è il destino di questo mio animo se mentre pongo queste domande state sorridendo di te ma sì vabbè in realtà avete perso quella parte di voi che se le chiedeva certe cose e il fatto di non poter rispondere definitivamente queste domande non significa che siano domande che non sono degne di essere poste anzi hanno un significato fondamentale per la maturazione della nostra esistenza vedete quando i ragazzi a scuola non vengono più messi di fronte a queste domande vengono messi di fronte ad altri concetti concetti di certezza e ripetibilità cose importanti ma che se dietro non hanno anche quel tipo di approccio rischiano di essere dannose si parla nelle scuole non solo del pensiero debole del fatto che sono morte le grandi narrazioni e quindi le grandi domande esistenziali forse erano per un tempo antico un tempo infantile si parla di presentabilità e di misura si parla di reputazione è un filosofo che voglia avere una carriera accademica non può perdersi in domande così metafisiche strambe irrispondibili e in tutto questo quelle domande rimangono nella coscienza dell'essere umano perché sono le domande che emergono dalla totale e profonda ignoranza che abbiamo nei confronti della nostra vera natura e però non vengono mai più espresse sono domande che permangono ma vengono sempre nascoste sommerse senza un'onesta e ambiziosa ricerca della verità tutte quelle cose la reputazione l'esperienza la ripetibilità il pensiero debole la presentabilità diventano nemiche della nostra vita perché si sostituiscono come delle dipendenze a quello che è poi il nucleo di ricerca interiore dell'essere umano che vuole sapere da dove viene vuole sapere qual è il suo destino vuole sapere queste cose e i cant gli eraclito inice non erano bambini che ponevano domande da bambini erano individui intelligenti che poi alla fine noi cerchiamo di derubricare neutralizzare a saperi oracolistici perché così mettiamo pace al fatto di non porci più quelle domande ma non ci stiamo affatto facendo del bene io un po ho capito perché abbiamo abbandonato la ricerca della verità e l'ho capito perché io stesso per un periodo della mia vita mi ero convinto che la ricerca della verità fosse una cosa da favole da oracoli da religiosi in realtà mi stavo raccontando delle balle credo che quelle balle siano molto in linea con il motivo per cui culturalmente abbiamo smesso di porci queste questioni ho capito perché ridiamo di fronte alla domanda qual è il senso di tutto questo qual è il senso dell'esistenza ho capito perché coloro che ricercano il significato della vita vengono visti come ingenuoti con la verità ci si scotta e noi non vogliamo più venire scottati non vogliamo più sentire il dolore della nostra insufficienza rispetto all'intuizione della verità vogliamo le cose più piccole più tangibili più sicure certe non vogliamo più quelle domande perché ci destabilizzano eppure le cose che ci arricchiscono sono tutte legate a quella ricerca di verità nel libro rosso carl gustav jung scopre una verità terribile facendo quell'auto analisi narrativa devastante archetipica simbolica scopre che conoscere me stesso vuol dire scoprire la mostruosità il libro rosso è l'emergere del mostro anzi dei mostri e quei mostri non ti sono alieni sono la parte preponderante del tuo inconscio di fronte a questa verità noi chiudiamo la porta e abbiamo ricoperto questa verità con la cronaca con il true crime quando scopriamo il mostro che c'è dentro di noi che possiamo vedere lo specchio e riflettere i nostri comportamenti vedere riflesso i nostri comportamenti preferiamo sbattere il mostro in prima pagina dire che il mostro è là fuori e allora ecco la cronaca che ci allontana sempre dal mostro il mostro che è il bravo ragazzo è quello che è lontano è quello che ammiriamo ma adesso a distanza è quello esterno a noi in tutto questo il true crime che culturalmente è quella tentativo di narrare la mostruosità sempre al di fuori lontana psicologicamente disturbata mai dentro di me la verità di jung viene totalmente spazzata via dall'allontanamento della cultura del true crime il mostro è sullo schermo un altro ricercatore di verità che abbiamo citato recentemente maister eccard ecco nella sua opera maister eccard scopre una verità terrificante che l'animo umano è un abisso inconoscibile che va oltre il linguaggio oltre le idee oltre ciò che posso rappresentarmi oltre persino l'idea di dio prego dio che mi liberi da dio scrive maister eccard questo mistico incredibilmente potente la verità è perciò l'informe il vuoto e ciò che noi siamo i discorsi che facciamo i corpi che siamo le parole il linguaggio le convenzioni tutto questo per maister eccard è nulla non ha un grado di esistenza questa è una occhio a tante verità scoperte nella religione le religioni e nelle filosofie orientali che ci atterrisce abbiamo però ricoperto questa verità perché c'è la formula giusta per ricoprire questa verità con i settarismi a buon mercato con le formulette religiose spirituali a buon mercato che mettono insieme un po di buddha un po di scientologi e un po di vandamarchi e questa cosa ci fa mettere a posto e allora andiamo al corso di yoga che ci fa sperimentare il vuoto però soltanto per quelle ore della giornata e poi dimentichiamo tutto il resto e torniamo ad essere quelle creature prive della domanda esistenziale e lì muore quella verità nella gaia scienza il già citato nice scopre una verità terribile ancestrale potente sconquassante che lui chiama il peso più grande ovvero la verità dell'eterno ritorno questa intuizione incredibile che sei incarnata muta trasforma la nostra vita l'intuizione secondo cui il tempo non è una linea che dalla creazione va fino alla fine dei giorni ogni istante è un'eternità perché si è ripetuto e si ripeterà infinitamente ogni istante che hai sprecato distrattamente nella tua vita è un'eternità sprecata distrattamente questa verità assoluta devastante intima intuibile non sperimentabile non falsificabile che cambia la visione del mondo di nice e l'ha fatto anche con tanti altri anche a me in parte ha cambiato il modo di stare al mondo è difficilissima da accettare è il peso più grande ma abbiamo ricoperto questa verità con un relativismo morale ed etico e la ricerca della ammortalità questa nuova ricerca dell'immortalità in un'altra forma tecnologica scientifica e via dicendo e allora non dobbiamo più pensare al fatto che ogni istante è eterno possiamo sprecare ogni istante cercando di allungare infinitamente la vita e tutte queste verità vengono ricoperte facilmente mediaticamente con il benestare del nostro animo quieto e pacificato accanto a tutto questo ovviamente la ricerca di verità in passato è stata anche fagocitata da ideologie terribili il nazismo il comunismo ma non solo e culti mai così terribili violenti come negli ultimi 150 anni perché capita questo perché quando la filosofia si ritrae dal discorso sulla verità il discorso sulla verità continua a esistere solo che viene fagocitato da altre cose che filosofia non sono e questo è capitato perché siamo stati scottati e questo fagocitare della domanda da parte delle ideologie ci ha scottato ulteriormente ricordo insomma quello che è successo nel novecento anche lì ni ce l'aveva capito la morte di dio che in parte rappresenta questa morte delle domande esistenziali avrebbe portato alle tragedie del secolo successivo e quindi sì è successo effettivamente ma la soluzione che abbiamo adottato culturalmente in occidente almeno è quella più sbagliata perché certo ci ha scottata questa questa esperienza ci ha scottati ci ha traumatizzati ma la soluzione non può essere quello di ritirarsi dalla verità di dimenticarsi la domanda sulla verità perché lì stiamo soltanto facendo una cosa vigliacca nei nostri confronti l'essere umano dopo tutto il novecento dopo queste migliaia di anni di domande di idee rimane comunque un enigma a se stesso non abbiamo risolto questo maelstrom questo grunde come aveva detto maister eckhart che ci alberga dentro non è non è risolto perché non è risolvibile e in quella irrisolvibilità la domanda permane perché non è che nell'oiato esistente fra il linguaggio e l'animo noi dobbiamo dimenticarci dell'esistenza dell'animo di quell'abisso semplicemente dobbiamo usare gli strumenti adeguati e quindi l'essere umano rimane l'enigma a se stesso e gli strumenti essenziali sono sempre e da sempre le idee ambiziose che sanno scavare dove altri non possono arrivare e la filosofia insieme all'arte da sempre è esattamente quello strumento perciò il filosofo deve abbandonare l'eremore e tornare a produrre idee abrasive cioè idee come quelle di eraclito di maister eckhart di nice che riescono a rompere le rappresentazioni che di volta in volta ci convincono di poterci non curare più della verità l'eterno ritorno il grunde di maister eckhart l'enigma il polemos di eraclito sono esattamente quelle idee che scavano rompono aprono una breccia e ci fanno un po respirare ciò che alberga sotto che ci spaventa ma va affrontato noi viviamo in un'epoca in cui affrontiamo problemi incredibilmente vasti globali che mettono di fronte anche a dei pericoli esistenziali il cambiamento climatico la dipendenza tecnologica la crisi demografica e la crisi democratica il multipolarismo e il ritorno delle ideologie sono tutti problemi che noi non possiamo pensare di risolvere con gli strumenti spuntati che non riescono a guardare alla verità la crisi che viviamo che è una crisi come detto degli valori e all'interno di questo ha una crisi spirituale deve essere affrontata con l'ambizione che la filosofia ha sempre avuto perché se vogliamo far sì che questa umanità occidentale entri nel nuovo millennio dobbiamo certamente alleare la domanda filosofica al sapere e al progresso scientifico tecnologico certamente la filosofia non deve essere nemica di queste cose mal ce ne incolga ma non deve succedere ma dall'altra parte non possiamo per questo motivo eliminare il discorso sulla verità perché se lo facciamo restiamo senza bussola come si può infatti pensare che tutto ciò vada affrontato privandoci delle domande essenziali della nostra vita quelle sulla verità sul significato che molto spesso citiamo con victor franklin non solo sul destino e persino su dio certo la filosofia deve tornare interrogarsi su sul cosmo su dio non è che perché l'astronomia ha fatto incredibili passi da gigante i misteri del cosmo debbano essere completamente espulsi dalla domanda filosofica non ha senso non ha senso dire che qualcosa che non conosciamo può essere affrontato soltanto con la prudenza del metodo scientifico deve essere affiancato quello da un'ambizione che da sempre la filosofia nutre e che in questa epoca forse un po perso per timore vigliaccheria sono riflessioni sempre presenti nell'arte l'arte sempre pone queste domande persino nell'intrattenimento film serie tv videogiochi che pongono queste questioni persino contenuti per bambini per adolescenti pongono queste questioni come è possibile che la filosofia abbia smesso di porsele i filosofi non possono porsi quelle domande ma perché la filosofia a quel punto sparisce ma i filosofi non possono perché sennò si giocano la reputazione evidentemente perciò dopo questo non so neanche come chiamarlo appello questo 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 discorso a cosa serve la filosofia nel 2024 alla stessa cosa che serviva nel 1800 avanti cristo nel 500 avanti cristo nel 700 dopo cristo in ogni epoca a cercare la verità che alberga sotto l'enigma del mondo con gli strumenti della filosofia che sono quelli della logica dell'argomentazione della metafisica certo la filosofia deve tornare a fare questo sapete perché perché l'uomo non è poi così cambiato dai tempi di eraclito sono cambiate le città è cambiato il modo di fare la guerra il modo di fare l'industria è cambiato il modo di parlare è cambiato il modo di pensare di costruire le città ma non è cambiato ciò che ci chiudi la porta a quell'abisso sei fottuto se qualcuno non è interessato è libero di andarsene è libero di non porsi le domande ne pagherà conseguenze ma è liberissimo ma i filosofi la piantino di aver paura di se stessi torniamo a fare discorsi di filosofia quelli che facevano i meister eckhart quelli che facevano inice e torniamo a parlare della verità senza paura di trovarci di fronte al riflesso della nostra esistenza che in fin dei conti è la cosa più enigmatica con cui possiamo avere a che fare questo credo sia la filosofia nel 2024 e anche 3000 5000 30 anni fa perché poi alla fine dei conti la ricerca non è mai veramente cambiata questo mi sentivo di dire perché perché viviamo un'epoca particolare quindi spero di aver messo dei ragionamenti utili mi scuserete per la voce ma l'influenza sta ancora finendo di colpire il mio povero fisico che tanto secondo meister eckhart non esiste lo sappiamo però insomma spero che nonostante questi problemi la puntata sia chiara e vi dia strumenti utili per usare la vostra testa sapere aude detto questo se siete in live non uscite perché alla fine della puntata andremo a leggere qualche commento a discutere insieme per tutti gli altri iscrivetevi al canale mettete mi piace condividete e venite a trovarci ogni tanto in live tanto siamo in diretta ogni giorno basta guardare il nostro sito dailycogito.com per sapere quali sono gli appuntamenti quindi vi aspettiamo grazie mille a tutti e ovviamente grazie mille anche allo sponsor di oggi che conclude questa puntata ovvero NordVPN chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa e su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati sei uno studente che usa l'hotspot universitario sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati ma non solo ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate e grazie ad elicogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso